E' ormai ufficiale con l'approvazione da parte della Giunta del progetto di riqualificazione dell'edificio comunale che ospitava il quinto settore, si concretizza l'iter per l'individuazione della sede del centro Alzheimer. Inizialmente l'amministrazione comunale aveva individuato Palazzo De Bagis come struttura in cui domiciliare il centro, ipotesi confermata con decreto del precedente governatore regionale. Dopo il primo via libera però l'ASREM aveva dato lo stop per la mancanza della certificazione per il rischio antisismico. Ora è il nuovo passo in avanti. Siamo andati un po' lunghi con i tempi però il Comune ha fatto la sua parte, il progetto è stato approvato, l'abbiamo presentato in via informale al commissario, stiamo per trasmettere gli atti sia alla struttura commissariale che alla regione e soprattutto ad ASREM. In questi momenti stiamo trasmettendo anche per ottenere l'autorizzazione paesaggistica visto che era prevista una piattaforma esterna. Nel giro di poco avremo una struttura bella, immersa nel verde, efficiente dal punto di vista energetica, sicura e con un giardino progettato e pensato proprio per stimolare le persone affette da Alzheimer. Per la rifunzionalizzazione dell'edificio è stata prevista una spesa di circa 550 mila euro alla quale il Comune provvederà con risorse proprie e contributi statali da parte del gestore dei servizi energetici. L'autorizzazione paesaggistica in tempi brevi dovrebbe arrivare nel giro di un paio di mesi, nel frattempo potremmo iniziare a fare delle opere interne di sistemazione, tinteggiature e così via. E poi la conferenza dei servizi durante questi due mesi con Asrem per dare l'ok sulla destinazione della struttura. Dopo parte questi piccoli lavori da fare e contestualmente l'affidamento che Asrem, il bando che farà per autorizzare o i dipendenti di una struttura di Asrem stessa o una struttura che gestirà il centro e che favorirà anche le terapie da fare per i soggetti che saranno ospitati.